Salve a tutti e benvenuti sul mio canale, io sono Maria Chiara e qua si parla di libri, libri che leggo, libri che scrivo, libri che vorrei comprare ed è collegato con il mio book blog su Tumblr, L'arte dello scrivere forse, che vi invito a visitare. Vi lascio il link nell'info box qui sotto e lì potrete trovare le recensioni, i miei pensieri, le presentazioni, le segnalazioni degli ultimi libri che ho letto e anche dei libri che ho letto in tutti gli ultimi vent'anni, quindi veramente contiene tante, tante, tante informazioni su tanti, tanti, tanti libri e magari potrete trovare lì la vostra prossima lettura. Adesso è estate, magari si ha più tempo per leggere, mi sembra una buona occasione per trovare qualche libro sfizioso da scoprire. Oggi però il video è dedicato in particolare a un'autrice sulla mente. Era un po' che pensavo di fare questo tipo di video dedicato a un'autrice che io personalmente amo molto nel panorama romance e cioè Joanna Lindsay. Allora, purtroppo la Lindsay è scomparsa nel 2019 e con lei abbiamo perso veramente una delle voci più famose e più acclamate del panorama romance. È una delle autrici americane che ha venduto di più al mondo. Basti dire che ha venduto più di 60 milioni di copie dei suoi romanzi ed è autrice di ben 50 best sell. Quindi stiamo veramente parlando di un'autrice molto 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 famosa. Allora, negli ultimi anni, diciamo, la moala, il gusto delle lettrici romance è cambiato. Diciamo che le nuove generazioni di elettrici romance, soprattutto americane, sembrano non apprezzarla particolarmente. Credono che i suoi temi e le sue trame siano non abbastanza moderne e che soprattutto non dipinga la figura femminile come andrebbe dipinta. Allora, ma per quanto mi riguarda io non concordo affatto. Posto che comunque noi, grazie al cielo, in Italia non siamo preda di una febbre delle political incorrect che sta prendendo l'America in questo momento, dove sembra che per portare in auge la donna dobbiamo dipingerla come una stronza arrivista che fa qualsiasi cosa ed è migliore di tutti e possiede tutti i superpoteri possibili. No, secondo me non è questo il femminismo e non è questo aiutare comunque la posizione delle donne nella società. È portare all'estremo una politica e una propaganda, secondo me, totalmente sbagliata. Totalmente sbagliata soprattutto quando va ad incidere sulla cultura nel senso di letteratura che parla di alcuni temi. Secondo me, ma è un parere soggettivo con cui potete benissimo non concordare, la letteratura deve essere lo spazio della fantasia e deve essere libera. Inoltre deve anche, in parte, in alcune sue manifestazioni, ritrarre la realtà, che sia realtà moderna, che sia realtà storica. Quindi, se nella nostra realtà esistono delle situazioni che vorremmo non esistessero, quindi violenza, razzismo, estremismo politico, eccetera, il fatto di rifiutarci di leggerle o di rifiutarci di inserirle all'interno della letteratura non le farà sparire. Non le farà sparire perché sono già successe in passato e non le farà sparire nemmeno dal presente. La censura è una cosa ben diversa dall'insegnamento, ok? Censurare i libri non vuol dire insegnare alle nuove generazioni cose bene e cose male, perché se non gli insegniamo ciò che è male, non sapranno nemmeno ciò che è bene. Questa è la mia opinione. Posto questo, quindi, secondo me, semplicemente, la Lindsay, nei suoi romanzi storici o sci-fi o altri generi che ha scritto, ha scritto quello che si sentiva di scrivere, ha espresso le sue idee, ha espresso il frutto della sua fantasia e ha espresso cose che in passato sono successe nelle epoche di cui lei racconta. Quindi, se in passato la figura femminile era trattata in un certo modo, lei per forza nei suoi libri la deve descrivere in questo modo. E sono la prima a dire, perché l'ho letta, che la Lindsay in molti romanzi in realtà presenta delle figure di donna poste all'interno di un certo tipo di società, ma che comunque hanno delle mentalità molto all'avanguardia, invece. Se uno legge in senso critico i suoi libri, non può assolutamente trovare che le sue eroine siano arrendevoli, svenevoli, o rappresentino un tipo di donna deleterio per le nuove generazioni, sinceramente. Chi pensa questo dei libri della Lindsay, secondo me non è in grado di giudicare un libro, perché forse non gli è stato insegnato. E anche questo è il mio pensiero. Fate queste premesse, io ritengo che invece la Lindsay sia un'autrice molto valida e molto piacevole da leggere, e credo anche che meriterebbe di essere letta dalle nuove generazioni, che non devono, secondo me, venire su con i paraocchi, ma devono tenere una mentalità aperta, perché è la mentalità aperta che, secondo me, migliora una società. Non porre dei paraocchi e dei tabù, secondo me. Soprattutto quando si parla di romanzi, di un tipo di letteratura, di intrattenimento. Cioè, stiamo parlando di romanzi rosa. Cioè, è questo veramente che noi dobbiamo censurare. Cioè, vado a censurare, vado a dire agli scrittori rosa, non mettete questo tipo di scene, non descrivete questo tipo di trame, e poi faccio vedere dei reality dove delle persone single vanno su un'isola per andare solo a letto l'uno con l'altra, o li riprendiamo mentre sono nudi e fanno la doccia. Cioè, ci rendiamo conto della dicotomia di questi due pensieri che in realtà sembrano coesistere al momento. Cioè, ce ne rendiamo conto. Le trame della Lindsay sono classiche. Sono classico romance. Descrivono un certo tipo di epoca storica e sono dei romanzi più che piacevoli. Non troppo sensuali. Non troppo moderni. Non hanno assolutamente niente che non vada. E, sinceramente, non capisco questo accadimento contro di lei. In questo momento. Se non per il fatto che lei non si può più difendere. Ma chiudiamo questo discorso. Mi sentite così pronta a difenderla proprio perché io, amandola, proprio non capisco questo fatto di rifiutare le sue opere che vedo nelle nuove generazioni americane, ma che realmente spero non stia succedendo anche in Italia. Lo spero veramente. Anche se, purtroppo, ho notato che negli ultimi anni le sue opere non stanno più venendo pubblicate, o meglio, ripubblicate in italiano. Ed è un vero peccato. Quindi, purtroppo, siccome oggi parlerò dei suoi libri, vi farò un po' un excursus delle sue opere in questo video, i link che vi lascerò nell'info box ai suoi libri sono per lo più link all'usato o link alle versioni inglesi dei suoi libri. Perché, purtroppo, negli ultimi anni non sta più venendo ripubblicata. Ma ha conosciuto negli anni... Poi prendo in mano uno dei suoi libri e vi dico. Ha conosciuto negli anni 90 e nei primi 2000, invece, talmente tanta fama anche qui da noi in Italia ad essere pubblicata in una collana di bestseller dedicata solo a lei, da Sperling. Quindi, veramente, stiamo parlando di un'autrice che fino a pochi anni fa, fino a dieci anni fa, più o meno, veniva idolatrata che adesso sta finendo nel dimenticatoio e io vorrei assolutamente che non accadesse. Ok, e adesso vi voglio dire perché a me piace e perché la sto difendendo in questo modo. Allora, partiamo da un presupposto. Non avete visto la linsei nelle mie dieci autrici preferite? Non ve ne ho parlato tanto nelle mie liste e negli altri miei video, ma in realtà qua e là è già comparsa. E se navigherete un pochino nel mio blog, la troverete citata diverse volte. Non è tra le mie autrici top preferite, che rileggo più spesso, ma comunque è uno dei miei capisaldi del romance. Se voglio un certo tipo di trama, un certo tipo di personaggio, sono in un periodo in cui voglio un certo tipo di libro, so che da lei lo troverò. Ed è uno di quei capisaldi di quelle autrici romance che secondo me, come la Woodvice, vanno lette. Dopo, può non piacere, può piacere, è sempre un gusto soggettivo, ma secondo me è uno di quei capisaldi che se uno ama il romance deve assolutamente leggere. Per provare. Perché a me piace così tanto? Allora, partiamo col dire che se cercate delle trame innovative, diverse dal solito, fuori dall'ordinario, non cercatele nella Lindsay. La Lindsay ama le trame classiche del romance, ma proprio quelle che più classiche non si può. proprio non cercate complicazioni, spie, trame arzigogolate, quel non so che di alternativo, ah, non ho mai letto quel tipo di trama, no. La Lindsay va sulle trame classiche, ok? Gli archetipi del romance già usati da mille altri autori. Per esempio, potete pensare che non volete leggere l'ennesimo romance su un vichingo che rapisce la figlia del capo di un clan nemico o la solita storia della debuttante londinese che deve trovare un marito nobile e ricco per sfuggire alla sua attuale vita familiare dove magari c'è uno zio che l'avessa. O magari non volete leggere l'ennesima storia dove c'è un nobile che è finito sull'astrico a causa del gioco o di altri problemi che magari non dipendono da lui e deve trovare un'ereditiera e sposarla per avere dei nuovi fondi a disposizione. Trame veramente, veramente classiche ma scritte dalla Lindsay e raccontate da lei queste trame già lette e sentite diventano sempre qualcosa di nuovo. Vi aggiunge dei particolari storici interessanti i suoi personaggi principali sono sempre interessanti e simpatici, i dialoghi sono sempre verosimili cosa veramente rara nel romance e soprattutto scrive in modo semplice e chiaro non complica né la sintassi né le trame che restano essenziali e coinvolgenti. Io la descrivo come una scrittrice romance classica ma estremamente chiara cosa dire, cos'è che mi conquista dei suoi libri cosa apprezzo dei suoi romanzi sono molto chiari facili da leggere abbastanza lineari ma risultano freschi pur non essendo per niente superficiali infatti la parte storica è sempre molto curata ma mai appesantita e i suoi personaggi pur cadendo a volte nello stereotipo perché partendo da trame stereotipate è logico che a volte anche i personaggi nascono come degli stereotipi per esempio molte delle sue protagoniste femminili sono estremamente belle però non sono mai perfetti cioè lei è secondo me una di quelle autrici che ci sa fare col fattore umano quando lei ti descrive un personaggio che può essere il personaggio più banale del mondo a me viene per esempio in mente il protagonista del suo libro Amore per sempre che è semplicemente uno scozzese finito sull'astrico che deve trovare dei fondi per aiutare il suo clan trama classica deve aggiustare il suo castello che sta cadendo a pezzi allora va a Londra per trovare un'ereditiera e tu dirai ti starà subito sulle palle questo cacciatore di dote invece dopo conoscendolo durante la trama del romanzo scoprirete che è simpatico che è ironico e che sì sta cercando un'ereditiera da sposare ma magari vorrebbe anche trovare qualcuno con cui si trovasse bene e magari scoprire che il matrimonio che dovrà fare per forza magari sarà anche qualcosa di piacevole ed è veramente qualcuno di simpatico che finirà per rimanere attratto invece da una persona che all'apparenza è fredda questa ereditiera ma che in realtà ha solo bisogno di qualcuno di simpatico e di ironico come lui per ravvivarle la vita quindi scoprite che questi due personaggi l'ereditiera e il cacciatore di dote sono estremamente umani con dei difetti e dei pregi hanno alle spalle delle storie che li rendono quelli che sono e che li rendono ancora dei personaggi ancora più a 360 gradi perché lei ha dei problemi con il padre lui ha avuto dei problemi col padre anche lui che lo ha lasciato sull'astrico lei invece ha un padre che non l'ama e poi scopriremo perché perché lei in realtà non è sua figlia ma è frutto di una relazione che sua madre ha avuto con un altro uomo e anche lei lo scoprirà solo durante il libro e ci sarà anche un piccolo corteggiamento tra di loro un po' strano perché vogliono ma non vogliono insomma lei alla fine sa che lui la vuole per i soldi lui sa che lei sa ma alla fine si piacciono anche se sono così diversi ed è questo il fattore umano che la Lindsay ha prendere dei personaggi che come spunto sarebbero veramente banali e renderli assolutamente umani e assolutamente simpatici e ci riesce sempre magari ci sono romanzi dove sono più vivi che in altri ci sono dei romanzi in cui sono leggermente più stereotipati che in altri ma riesce sempre a presentarteli come interessanti e quasi sempre anche simpatici c'è qualcuno che magari assomiglia a qualcuno che tu conosci o qualcuno che vorresti conoscere riesce a renderli vivi e avere questi personaggi vivi all'interno di queste trame che di per sé sarebbero semplici e forse anche banali le sbanalizza per il semplice potere dei personaggi e delle loro voci inoltre ad arricchire ulteriormente queste trame basilari c'è anche il fattore storico che lei riesce a descrivere molto molto bene le sue descrizioni storiche secondo me sono molto piacevoli perché riescono ad essere semplici pur essendo precise quindi per tutti questi motivi io la trovo un'autrice veramente veramente molto brava e da apprezzare riesce a rendere romantiche anche delle scende che in realtà potrebbero essere estremamente banali come ad esempio una lotta alle palle di neve mi viene in mente questa scena sempre presa da Amore per sempre che è il mio suo libro preferito che rileggo spesso quindi io non posso non consigliarvela e non posso non dirvi di darle una possibilità cerco di farvi una breve presentazione secondo me delle sue opere maggiori in modo sintetico non potrò farvi un elenco completo di tutti i suoi libri perché sono veramente troppi pensate che ha scritto cercherò di presentarvi i più famosi e quelli che forse la rappresentano di più e mostrano meglio la sua ecletticità quasi tutti i suoi romanzi sono stati pubblicati in italiano e io vi elencherò solo dei titoli che sono stati pubblicati in italiano perciò potrete reperirli senza problemi più che altro nell'usato purtroppo perché come vi ho detto negli ultimi anni non sta venendo più ripubblicata però nell'usato penso che la troverete senza problemi se poi potete leggere in inglese troverete anche tutte le sue opere in versione ebook su Amazon senza alcun problema iniziamo col parlare della sua serie vichinga di Hardrad Family Series formata dai libri I fuochi d'inverno cuori in fiamme cedi al mio amore qui appunto abbiamo una serie che parla di vichinghi quindi è una trilogia secondo me adattissima se amate il telefilm vikings cioè trame veramente basilari cioè il capo clan vichingo che rapisce è la figlia di un altro capo clan un capo clan che deve salvare il suo clan da un'invasione insomma sono trame abbastanza abbastanza basiche qui però appartengono a quella nicchia del romance dedicata appunto ai vichinghi e all'epoche più lontane e violente che comunque si basa sempre su questo tipo di trame secondo me sono scritti molto bene sono molto piacevoli se cercate qualcosa di semplice anche come personaggi in questa trilogia probabilmente non abbiamo i suoi personaggi più affascinanti se cercate qualcosa di un leggermente più alto vi consiglierai delle altre sue opere sicuramente la sua serie più famosa è quella che è quella che l'ha consacrata al grande pubblico e l'ha portata al successo internazionale è la serie Mallory dedicata appunto alla famiglia Mallory una vincente saga familiare ambientata sullo sfondo della Londra ottocentesca io personalmente non ho amato tutta questa serie però se vi piacciono le saghe familiari tipo appunto i Bridgerton i Chinster i Bedouin sicuramente i Bedouin sicuramente vi potrebbe piacere anche questa probabilmente delle serie che vi ho citato quella più vicina ai Chinster della Stephanie Lawrence più che non ai Bedouin di Mary Ballou però se vi piace il genere sicuramente vale la pena di darle una possibilità i protagonisti sono estremamente focosi volitivi estremi nei loro sentimenti quindi diciamo se avete amato i passionali Chinster al 99% amerete anche i passionali Mallory è facile capire se vi potranno piacere o no personalmente la serie anche se è formata da 12 libri io ne ho io su 12 libri ne ho apprezzati due il primo e il decimo il primo è quell'unico amore love only once ok dove c'è un uomo appunto che a causa di qualcosa che è avvenuto nel suo passato ha deciso di non innamorarsi mai conducendo una vita da impenitente seduttore però a un certo punto incontrerà una donna appunto una Mallory che gli farà cambiare idea o meglio farà in modo che le sue certezze vacillino ok anche qui è una trama estremamente semplice però sono due personaggi veramente affascinanti e la Lindsay riesce a rendere veramente carino e piacevole un romanzo che poteva essere estremamente banale o qualcosa di già visto invece no invece nella sua semplicità è un libro che a me è piaciuto veramente molto l'altro libro che mi è piaciuto molto di questa serie questo in più anche una trama più interessante è Per non sposarti The Perfect Someone allora sulla carta Giulia e Richard potevano essere una coppia perfetta ricchissima e priva di un titolo lei nobile con esiguo patrimonio lui e vedete che è una trama che sa molto di già sentito perché si devono sposare appunto perché lui ha bisogno di soldi e lei così si sposerebbe nella nobiltà qualcosa di molto già sentito perciò le rispettive famiglie hanno deciso di farli fidanzare fin dalla più tenera età non sapendo che tra i due sarebbe stato odio a prima vista e in questo libro salta fuori anche il lato più ironico della Lindsay che c'è e fuoriesce in diversi libri cioè si odiano talmente tanto questi qui fin da piccoli che non appena cresciuto Richard scappa nei Caraibi e diventa un pirata Giulia invece ci accetta di buon grado la condizione di Zitella sperando che lui non si faccia più vivo ma durante una festa in costume quando saranno passati diversi anni saranno tutti e due adulti i due si rincontreranno e scoccheranno una scintilla almeno finché non scopriranno le loro identità e si renderanno conto di essere attratti da qualcuno che in realtà dovrebbero odiare e si odiano ancora così fanno un patto fingono di volersi sposare davvero e quindi di assecondare il volere delle loro famiglie ma nel frattempo cercheranno il contratto cartaceo stilato dai loro genitori per distruggerlo una volta per tutte questa è una delle trame leggermente più asegogolate della lì ma comunque molto chiara e molto semplice alla fine i personaggi sono molto simpatici molto carini e soprattutto sono carini i dialoghi tra di loro questo sicuramente è un libro che vi consiglio ed è uno dei miei preferiti della linse sicuramente poi non potevo non nominare in questo breve escurso su una delle serie western della linse che ne ha diverse appunto ambientata nell'America dell'ottocento all'ovest e ho scelto la Stratton Family Series che è formata se non sbaglio da due libri cuore selvaggio e prigionieri del desiderio se lo mi piace più cuore selvaggio che in originale si intitola Art so wild è ambientato nel Kansas del 1868 allora c'è un uomo Edward Art che decide di trasferirsi in Texas con la nuova moglie e la figlia Corney ma durante il viaggio il famoso viaggio all'ovest viene assalito da una tribù indiana e l'uomo scompare Corney convinta che il padre sia ancora vivo cerca una guida che l'aiuti a ritrovarlo e il prescelto è il pistolero Chandos che è un mezzo sangue appunto trama assolutamente classica ma vista anche in certi film però funziona però funziona se in questo caso non abbiamo un libro dove i personaggi spiccano esattamente per la loro personalità ok perché sono abbastanza stereotipati ma il rapporto tra i due il fattore umano tra i due e la trazione tra i due funziona assolutamente questo probabilmente è anche uno dei libri un pochino più passionali della Lindsay pur senza raggiungere assolutamente il livello di passionalità della Stephanie Lawrence assolutamente però l'attrazione tra i due è praticamente il motore che porta avanti buona parte del libro più che la trama anche se anche la trama è abbastanza piena di azione cioè io vi ho detto che le trame della Lindsay sono abbastanza basilari e ripetitive ed è vero ma ciò non vuol dire che siano statiche cioè molti suoi romanzi sono abbastanza avventurosi cioè lei è scritto anche di molti pirati quindi non sottovalutate in base a quello che vi ho detto il lato avventura dei suoi romanzi perché è molto 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 presente molto presente questo è un libro dove veramente siccome i personaggi sono costantemente in viaggio accadono molte cose e c'è molto azione azione che è portata avanti però e resa ancora più interessante dall'attrazione tra i due protagonisti niente di straordinario voi direte no però secondo me è un libro assolutamente piacevole e tra me tra quelli della Lindsay è uno dei miei preferiti anche questo comunque a mio avviso probabilmente la Lindsay dà il meglio di sé proprio il suo top nei romanzi storici medievali ok e la sua serie medievale più famosa è la Shefford Knight perché dico che è del meglio di sé nei romanzi storici perché è qui che riesce a sfruttare meglio la sua capacità di arricchire i suoi romanzi con dei contenuti storici anche molto interessanti e molto realistici e studiati pur non appesantendoli ok e inoltre anche i suoi personaggi sono molto umani molto piene di sfaccettature molto intriganti pur essendo anche qui incastonate in trame abbastanza classiche per il genere medievale la serie sua più famosa medievale come vi ho detto è la Shefford Knight che è formata dai libri non sfidare il cuore defy not the art e il primo bacio tra questi due il mio preferito che fa parte dei miei libri appunto preferiti della Lindsay è sicuramente il primo bacio che in originale si intitolava joining anche qui partiamo da un conflitto abbiamo Millicent una nobile ereditiera che combatte da sempre contro i vincoli della sua classe sociale e del suo essere donna e questo è la faccia di quelli che dicono che i personaggi femminili della Lindsay non sono moderni da un punto di vista intellettuale nell'Inghilterra del 200 in cui i matrimoni aristocratici vengono decisi in base a ricchezze e prestigio Millicent e Wulfric sono promessi sposi fin da quando erano bambini ma Mill che ha un lupo e un falco come animali domestici è assolutamente contraria a diventare la nobile la docile mogliettina di qualcuno e la prima volta che infatti incontra Wulfric quando è ancora molto giovane la prima cosa che fa è scagliargli contro una freccia col suo arco giusto per presentarsi e d'altra parte Wulfric davanti a Thomas schiaccio non è che sia particolarmente attratto ma questi non sono gli unici ostacoli all'unione infatti c'è anche il re Giovanni senza terra quello presente nella storia di Robin Hood che contrasterà il matrimonio perché se i due si sposassero si unirebbero due fra i maggiori patrimoni del regno e quindi diverrebbero una potenza da un punto di vista politico e monetario una potenza che lui non vuole perché magari un giorno i loro eredi potrebbero tentare addirittura di sfidare la corona ok quindi qualcuno comincerà ad attentare alla vita di Millisand quindi ci sarà anche un mistero da risolvere ma in tutto questo comunque l'autrice riesce mai a non far perdere di vista la cosa più importante del romanzo che è il rapporto tra i due e il fatto che i due a poco a poco si scopriranno a tratti e più simili di quello che pensano nonostante all'inizio avessero cozzato come due muri un romanzo che sicuramente vi consiglio e che dovrei avere qui da qualche parte eccolo qua qualcuno ce l'ho eccolo qua e la copertina non c'entra niente col libro ok questo è il primo vado sicuramente molto molto carino poi allora un'altra sua serie che ho adorato è una sua serie romance sci-fi cioè una serie ambientata nel futuro pianeti che non sono la terra ok quindi nello spazio per me la sua trilogia l'insater è molto molto interessante ed è tra l'altro un altro esempio di libro in cui la protagonista è estremamente moderna ed estremamente emancipata quindi io non capisco tutto questo audio verso la linse sinceramente non lo capisco allora la trilogia lì santer ok è formata dai libri l'amante del guerriero il custode del cuore e cuore di guerriero ok nel primo libro la protagonista è Tedra nel secondo libro la protagonista è la figlia di Tedra e nel terzo libro è il figlio di Tedra ok quindi i tre libri in realtà sono leggibili a sé stanti però in questo caso sono abbastanza collegati perché abbiamo prima la storia della madre e poi la storia dei suoi due figli e sicuramente la storia dei due figli se non leggete la storia della madre non ha molto senso inoltre sicuramente il primo libro l'amante del guerriero è uno dei miei libri preferiti della Lindsay ed è secondo me uno dei più belli quindi ve lo consiglio assolutamente allora il titolo italiano è l'amante del guerriero il titolo originale era Guardious Woman e abbiamo come protagonista Tedra una guardia di sicurezza una specie di polizia altamente specializzata anche in combattimenti corpo a corpo di un pianeta altamente sviluppato forte e molto alta non ha mai trovato uomini che sapessero batterla in una lotta e perciò non si è mai innamorata veramente quanto il suo pianeta però viene conquistato da un tiranno riesce a sfuggire insieme al suo computer super intelligente che con voce di donna le dà consigli non richiesti e crede sempre di sapere ciò che è meglio per lei infatti il super computer che è un po' l'anima della tua migliore amica che ti vuole accasare per forza trova il pianeta di origine dei soldati mercenari che sono stati assoldati dal tiranno che ha invaso il suo pianeta e la fa atterrare lì su questo pianeta gli uomini sono enormi altissimi e muscolosissimi molti più forti dei loro discendenti che unendosi alle altre razze si sono indeboliti ok Tedra scende sul pianeta decisa a ingaggiare questi super guerrieri per andare a liberare il suo pianeta dal gioco del tiranno ma per la prima volta nella sua vita viene sfidata e sconfitta in combattimento da un uomo perciò dovrà soggettarsi per un mese alla volantà del guerriero che la sconfitta quindi qui abbiamo il lato ironico della Linisei perché il super computer è veramente simpaticissimo e fa sempre dei commenti fuori luogo poi abbiamo una protagonista che è estremamente emancipata e moderna che si ritrova su un pianeta ancora estremamente invece arretrato dove vige una un tipo di struttura sociale arcaica quasi vichinga no? ok anzi molto vicina ai vichinghi e quindi abbiamo dei guerrieri abbastanza maschilisti che non sanno bene come comportarsi con una donna invece che è a loro pari sia da un punto di vista fisico che ha e che anzi intellettualmente è anche superiore a loro quindi abbiamo queste due realtà che si incontrano e si scontrano ma alla fine si incontreranno e si uniranno libro molto carino molto innovativo secondo me molto piacevole ma allo stesso tempo molto semplice una lettura veloce ma estremamente piacevole certo vi deve piacere già nelle sci-fi non siamo nella Londra dell'ottocento non siamo nell'America dell'ottocento siamo su un altro pianeta si parla di astronavi ma alla fine si parla sempre di amore ed è sicuramente uno dei miei libri preferiti della Lindsay poi vi nomino invece un'altra serie della Lindsay ambientata nell'Inghilterra di fine ottocento la Sharing Cross serie perché contiene il mio libro preferito della Lindsay in assoluto che vi ho già citato all'inizio del video cioè Amore per sempre allora la serie è formata da tre libri e Amore per sempre è il secondo libro della serie ma è assolutamente a sé stante i tre libri si collegano perché i personaggi si conoscono tra di loro ma hanno dei protagonisti diversi Amore per sempre come titolo originale si intitola Love me forever e come vi ho già detto ha come protagonista un'ereditiera appunto Kimberly ormai ultra ventenne che viene costretta dal padre a trascorrere un periodo nella residenza di alcuni nobili amici perché deve trovare marito e lì ospite sempre perché deve trovare invece moglie è Lacan McGregor un rampollo di un antico clan scozzese in cerca di una moglie ricca lui sarà solo uno dei vari spasimanti scelti per Kimberly e magari quello con cui la giovane cozza di più perché lei è estremamente chiusa mentre lui è estremamente irriverente scherzoso eccetera lei lo considera un arrogante cacciatore di dote per di tempo e lui la considera un insopportabile snob ma tra un incontro e l'altro si scopriranno invece attratti perché in fondo appunto gli opposti si attraggono e forse sono fatti proprio l'uno per l'altro poi come vi ho detto già all'inizio scopriremo c'è al meglio Kimber scoprirà la verità sulla sua nascita Lacan si scoprirà un uomo migliore di quello che lui stesso crede di essere è veramente veramente un libro molto dolce delicato e secondo me estremamente romantico la trama sembra semplice ma questi personaggi sono veramente tra i personaggi più affascinanti del romance che io abbia mai letto e questo libro ce l'ho naturalmente eccolo qua e qui la copertina non c'entra assolutamente niente no vabbè c'entra un pochino perché appunto chi ospita Kimberley nella sua tenuta cerca di fare da cupido perché cerca di trovare marito quindi magari un pochino di senso ce l'ha questa copertina ma non rispecchia molto comunque il libro libro estremamente estremamente carino veramente veramente carino ma la sua forza è nel rapporto dei personaggi e ve lo consiglio veramente veramente tanto per concludere questa carrellata dei romanzi della Lindsay voglio citarvi qualche suo romanzo singolo non facente parte di una serie e comunque anche per farvi qualche esempio dei generi in cui lei ha spaziato allora abbiamo come romance esotico la sposa rapita dei captive bride ok dove abbiamo nella Londra dell'ottocento di fine ottocento la capricciosa erede di un'immensa fortuna Cristina che fugge da Londra di nascosto per seguire il fratello al Cairo ok lì viene però rapita da un misterioso berbero e si ritrova prigioniere in una tenda isolata nel cuore del deserto ok classica trama classicissima trama cioè tipo film lo sceico per intenderci però anche qui la forza della linse sta nei personaggi sicuramente non è uno dei suoi libri che io preferisco sicuramente uno forse di quelli più stereotipati ma è comunque un libro piacevole poi come vi dicevo ha scritto anche molti romans pirateschi e vi cito ad esempio l'amore di un pirata a Pirates Love anche qui abbiamo una giovane donna che parte per i Caraibi dove è destinata ad un matrimonio combinato ma viene rapita da un pirata che abborda la sua nave e anche qui lei finisce appunto preda di questo capitano pirata bello sfrontato e anche qui potrete immaginare come andrà a finire e questo sicuramente è anche uno dei suoi romaggi un pochino più avventurosi come romance medievale invece voglio citarvi così parla il cuore Sospix di Art che secondo me è anche uno dei più carini della Lince dove però abbiamo sempre la stessa trama più o meno perché abbiamo Lady Brigitte che viene che è erede di una robine famiglia francese che viene rapita da Sir Howard Damonville anche lì è un rapimento quasi che avviene per sbaglio però i due alla fine si innamoreranno poi come romance western di genere spose per corrispondenza perché la Lince ha scritto anche questo vi cito Tenera è la tempesta tender is the storm è anche questo abbastanza carino e ve lo consiglio determinata a sottrarsi al gioco di matrimoni combinati dell'alta società neoyorchese l'ereditiera Sharice Hammond parte per il selvaggio West come sposa per corrispondenza di Lucas Holt allivatore dell'Arizona ma quando arriva là scoprirà che in realtà Lucas ha bisogno di una moglie non per se stesso ma per vendicarsi di qualcun altro ok e lei non gli sta molto bene fi essere finita nel bel mezzo di una faida ok inoltre lei stessa non è quello che Lucas cercava perché diciamo che come ereditiera non è che Sharice se la sappia cavare molto nel West ecco diciamo così però i due si scopriranno a tratti e quindi dovranno cercare di convivere come meglio possono un libro molto carino che questo invece che vi consiglio invece poi non posso non citarvi uno dei suoi paranormal romance la spada uno dei suoi paranormal romance la spada di Thorne che in originale si intitolava Antille Forever anche qui questa è una trama veramente che avrò letto con diverse sfumature in almeno scritta da almeno dieci scrittori diversi cioè con che ha come protagonista una spada magica in questo caso si tratta di una spada vichinga che è al momento nelle mani di una giovane docente di storia medievale presso una piccola università statunitense ok ogni volta che la giovane donna impugna la spada un rombo di tuono annuncia l'improvvisa apparizione di un forte splendido guerriero vichingo che sostiene di chiamarsi Thorne e di essere stato vittima di un maleficio che lo ha appunto imprigionato nella spada e ogni volta che la spada cade in mani femminili lui è costretto a lasciare il mitico Valhalla e a trasformarsi in umile servitore delle sue nuove proprietarie perché come la bestia della favola di Labella e la bestia questo vichingo quando era in vita ha fatto un torto a una donna e quindi per questo è stato punito col dover servire le donne anche questo è un fuggito esempio dell'antifeminismo delle trame della Linsey proprio io non capisco come facciano a dire che lei è antifeminista io non lo capisco con queste trame comunque Rosalyn è decisa a non comportarsi come tutti i padroni precedenti di Thorne ma anzi lei lo vuole aiutare e liberare ok anche qui prenderà in via un'avventura magica e indimenticabile che li farà addirittura viaggiare anche nel tempo indietro nel tempo è un libro che vi consiglio se però come me amate il paranormal romance se invece preferite il romance normale sicuramente questo non fa per voi qui si conclude la mia carrellata dei romanzi della Linsey e mentre vi facevo anche questo piccolo escursus vi ho anche detto in poche parole quali sono i miei suoi libri preferiti vi stilerò comunque nel post che farò sul blog anche la mia top ten ok sicuramente comunque avete capito che in cima c'è amore per sempre poi al secondo posto l'amante del guerriero poi quell'unico amore poi per non sposarti cuore selvaggio il primo bacio tenera è la tempesta e la spada di torno questi sono i miei suoi libri preferiti che vi consiglio caldamente ma se in base a quello che vi ho detto vi ha ispirato qualche altro romanzo suo non esitate comunque anche a provare i suoi libri che io non ho citato perché secondo me comunque tutti i suoi libri meritano vi lascerò qui sotto nell'info box i link che sono riuscita a trovare ai suoi libri purtroppo credo che dovete trovarli per forza nell'usato e se questo video vi è interessato sentitevi liberi comunque di chiedermi magari un altro escurso su un'altra presentazione di un altro autore se siete curiosi di sapere appunto cosa penso di altri autori romance e magari cliccate mi piace qui sotto al video e mi raccomando iscrivetevi al canale in modo da non perdere anche i miei prossimi video qui vi saluto e vi auguro buona lettura e vi auguro